Molto interessante come Gioppe ha sofferto tanto nelle mani di Satana. Lui ha tolto i suoi beni, ha tolto i suoi animali, ha tolto la sua famiglia, alla fine ha tolto pure la sua salute. Tutte queste cose sono successe per un piccolo dettaglio che a volte dimentichiamo e io vi voglio ricordare in questo oggi. Ogni cosa che succede, ogni piccolo dettaglio nella nostra vita, succede solamente con la permissione del Signore. Dio ha permesso queste cose nella vita di Gioppe perché sapeva che in alcun modo queste cose sarebbero per il suo beneficio e sarebbero anche per il nostro beneficio oggi in giorno. Lui ha sofferto tanto, però in un certo momento nella sua vita Gioppe dice Io so che presto il mio Redentore si alzerà favorevole a me. Io spero che il tuo giorno sia pieno di felicità e di molta gioia, però se non sarà così, aggrappati a questo. Sia tu consapevole che il tuo Redentore vive e presto Lui si alzerà favorevole a te. Anche se non si sembra che Dio sta rispondendo, anche se si sembra che Lui non vuoi rispondere, sia sicuro, sia sicuro, aggrappati a Cristo e a questa realtà, che il tuo e il mio Redentore che vive presto si alzerà a te e a me favorevole. Che il Signore vi benedica.